Benvenuti alla rubrica del 97 di 3 Radio Stereo, consigli per gli acquisti 22 anni da compiere a febbraio, ma alle spalle è già tanta esperienza D'altronde in Inghilterra è così, se hai talento e il temperamento non ti manca Vai subito in campo, senza attese, senza alcun timore Di casi storici ce ne sono tanti, dai principini del Manchester United e di Alex Ferguson che hanno scritto la storia Ai due gioielli di inizio anni 2000 buttati nella mischia in Premier League a soli 16 anni E subito capaci di fare la differenza Wayne Rooney con l'Everton e James Milner, attuale colonna del Liverpool, debuttante in giovanissima età con la maglia del Leeds United Ellen Road, teatro storico del calcio inglese, che circa 20 anni fa ospitava le gare di una delle squadre più belle d'Europa Il Leeds di O'Leary e degli australiani Biduka Cuell, che nel 2001 giunse persino in semifinale di Champions League Il club dello Yorkshire è sprofondato ormai da parecchio tempo in un triste e malinconico anonimato calcistico Non è certo servito il periodo di reggenza dell'ex patron del Cagliari Cuellino a risollevare le sorti di squadre e società Il settore giovanile ha però proseguito in un lavoro di crescita e nel 2014, dal vivaio, è spuntato fuori un gioiellino di nome Lewis John Cook Di certo non un vichingo, visti i suoi 175 cm d'altezza per 70 kg Centrocampista centrale, estremamente differente per caratteristiche dalla tipica mezzala inglese degli anni 2000 Alla Frank Lampard o Steven Gerrard, molto più simile ad uno spagnolo O avvicinandoci agli ex protagonisti della nostra Serie A, a un David Pizarro o a un Lucas Torreira Piccolo di statura, sì, ma veloce di pensiero e nell'esecuzione delle sue giocate Visione di gioco da playmaker puro, accompagnata da una vera vagonistica persino anomala Per un calciatore con quel tipo di struttura fisica Dote che lo rende temibile e ostico anche nei contrasti in mezzo al campo Può giocare davanti alla difesa, da centrale nei due di mediana Da intermedio nei tre o all'occorrenza, ma di rado da trequartista Il suo impatto con la prima squadra del Leeds è stato eccezionale Già titolare fisso nella stagione 2014-2015 A soli 17 anni e mezzo, in un torneo tosto e complicato come la Championship Nell'arco di due intere stagioni, Cook ha messo insieme la bellezza di 85 presenze ufficiali Coppe comprese, segnando i suoi primi e finora unici due gol nel calcio professionistico Chi ha fiutato l'affare nell'estate del 2016 è stato il Barnemouth, club emergente di Premier League Che ha deciso di spendere ben 7 milioni di euro per garantirgli il salto di categoria Dopo un primo anno condizionato da un brutto infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori per oltre tre mesi Limitando nell'impiego, Cook si è imposto nel massimo torneo nel 2017-2018 Giocando in tutto 29 partite di campionato E nell'attuale torneo, dopo una fase iniziale trascorsa in panchina Il giovane, peraltro interessante, coach delle Cherries è Diaw Lo ha rimesso al centro del suo progetto tecnico in qualità di falo del gioco Impressionante anche la scalata di Cook nelle varie nazionali giovanili inglesi Sin dalle primissime apparizioni nell'Under 16, risalenti al 2011 Da segnalare due trionfi assai prestigiosi L'Europeo Under 17, disputato a Malta nel 2014 E soprattutto il campionato mondiale Under 20 Che Lewis Cook ha giocato e vinto da capitano nel 2017 in Corea del Sud Nel settembre dello stesso anno ha ricevuto la prima chiamata dell'Under 21 E nel novembre seguente il CT della nazionale maggiore, Gareth Southgate Lo ha convocato per la prima volta Facendolo esordire in primavera, il 27 marzo Durante l'amichevole di Wembley contro l'Italia Debutto che è valso una vincita di 17.000 sterline al nonno Trevor Burringham, che tre anni prima aveva avuto il coraggio di scommettere Sull'approdo in nazionale del nipotino prodigio